Un'altra sentenza della Cassazione, sempre sui ricorsi patriciati dai legali di Anief, sancisce comunque il diritto a che cosa? Il diritto al riconoscimento per intero, dopo tanti vittorie ottenute dai legali Anief, questa sentenza della Cassazione riconosce il diritto alla valutazione del servizio prestato anche non in costanza di momina come servizio militare o servizio civile. Questo sia per quanto riguarda le gradatorie per le supplenze del personale docente ma anche pensiamo alla terza fascia delle gradatorie ATA, quindi è un principio su cui la Cassazione ora ha fatto chiarezza e quindi è importante per tutti coloro che hanno dichiarato questo servizio e lo hanno prestato di farsi riconoscere questo servizio nelle rispettive graduatorie.